6 segni per riconoscere una persona tossica Le persone tossiche possono avere un impatto significativo sulla nostra salute emotiva, sul nostro benessere psicologico e sulle nostre relazioni. È fondamentale sviluppare la consapevolezza e la capacità di identificare questi individui dannosi per preservare la nostra felicità e il nostro equilibrio. Questo video si propone di condividere 6 segni chiave che possono aiutarti a individuare una persona tossica, offrendoti la possibilità di proteggerti e di coltivare relazioni più sane e appaganti. Iniziamo con il primo segno, i comportamenti manipolativi. 1. Le persone tossiche spesso utilizzano comportamenti manipolativi per controllare o influenzare gli altri a proprio vantaggio. Questi comportamenti possono manifestarsi in diverse forme, tra cui 2. Colpa Le persone tossiche cercano di far sentire gli altri colpevoli per ottenere ciò che vogliono. 3. Minaccia Le persone tossiche possono utilizzare minacce o intimidazioni per ottenere ciò che desiderano. 4. Controllo Le persone tossiche cercano di controllare gli altri manipolando le loro decisioni, le loro azioni o la loro libertà. Vorrei darti alcuni consigli per poter riconoscere questi comportamenti. Sii consapevole dei tuoi diritti e della tua autonomia. 5. Fai attenzione a qualsiasi segnale di colpa o minaccia che ti venga rivolto ed impara a dire di no in modo assertivo. Consulta gli altri video presenti sul canale inerenti alla manipolazione. Ti saranno davvero utili in questa circostanza, che può sembrare molto astratta e invisibile, ma in realtà è sufficiente essere preparati soprattutto per quanto riguarda la propria difesa. Il secondo segno è narcisismo e autocentrismo. Le persone tossiche spesso presentano tratti caratteristici di narcisismo e autocentrismo. Questi individui tendono ad essere estremamente focalizzati su se stessi. Cercano costantemente l'attenzione degli altri e mettono i propri bisogni al di sopra di quelli degli altri. Vediamo in dettaglio queste caratteristiche. Egoismo Le persone tossiche sono spesso egoiste e interessate solo ai propri desideri e bisogni. Bisogno di attenzione Le persone tossiche cercano continuamente l'attenzione e l'ammirazione degli altri. Vogliono essere i protagonisti di tutte le conversazioni e per esserlo farebbero di tutto. Per identificare queste caratteristiche ti consiglio di seguire questi suggerimenti. Osserva i modi di comportamento Ascolta attivamente ed attentamente e valuta la reciprocità. Il terzo segno è la mancanza di empatia. Le persone tossiche spesso manifestano una mancata mancanza di empatia che si traduce nell'incapacità di comprendere o considerare i sentimenti e le esigenze degli altri. Questa mancanza di empatia può portarle a essere insensibili, critiche o addirittura disprezzare gli altri senza un apparente motivo. Per individuare questa caratteristica ti basterà osservare con un minimo di attenzione ed accortezza le persone che hai davanti e soprattutto utilizza la tua intuizione per capire se presenta questa caratteristica. All'inizio questa persona potrebbe anche fingere di essere empatica, per cui può risultare difficile percepire ciò. Naturalmente sta a te utilizzare il buonsenso ed un po' di intuito per capirlo. Il quarto segno è il ciclo di abuso. Alcune persone tossiche possono seguire un ciclo di abuso caratterizzato da fasi di innamoramento, tensione ed esplosione. Questo ciclo può essere presente in relazioni emotivamente o fisicamente abusive in cui la persona tossica alterna momenti di gentilezza con episodi di violenza verbale, fisica o emotiva. Questo ciclo è composto dalle seguenti fasi innamoramento, tensione ed infine esplosione, ovvero dove iniziano a verificarsi i sopracitati episodi di violenza. Per quanto riguarda questa tematica, ne abbiamo parlato nello specifico in un altro video dedicato, proprio qui sul canale. Consultalo se ti trovi in questa situazione o vuoi comunque capirne di più su questa tematica sempre più presente al giorno d'oggi, in un periodo storico-sociale così delicato come quello che stiamo vivendo. Passiamo ora al quinto segno. Le critiche e la costante negatività. Le persone tossiche spesso diffondono costantemente negatività e critiche. Chiaramente non stiamo parlando di critiche costruttive. Ad esempio, se hai un obiettivo e stai cercando di raggiungerlo, è bene ascoltare suggerimenti e critiche costruttive da una persona che ha raggiunto ciò che tu vuoi. Questa persona può essere ad esempio un mentore. Ma quando si parla di persone tossiche, tutto ciò è diverso, in quanto queste persone tendono a far sentire gli altri insicuri, sminuendo la loro capacità e punti di forza. In particolare, per quanto riguarda la costante negatività, hanno la tendenza a vedere il lato negativo di ogni situazione e a concentrarsi su ciò che non funziona, anziché su ciò che va bene, per poi sminuire e criticare gli altri. Per proteggerti da questa costante negatività e cercare relazioni più positive e costruttive, ti consiglio di seguire questi suggerimenti. Riconosci il tuo valore, sempre. Purtroppo è molto più facile autoscreditarsi e non riconoscere il proprio valore. Ma come persone, dobbiamo allenarci per farlo. Imposta confini sani, sviluppa la resilienza emotiva ed eventualmente cerca supporto da parte di qualcuno di cui ti fidi o nel peggioe dei casi, da un professionista. Eccoci giunti al sesto ed ultimo segnale per identificare una persona tossica, ovvero il drenaggio energetico e mancanza di reciprocità. Una persona tossica, oltre a tutte le caratteristiche che ti ho descritto fino ad ora, ha la capacità di drenare tutta l'energia che ti appartiene, senza dare nulla in cambio. Ovviamente, in particolare, lo fanno attraverso questi aspetti. Approfittarsi della generosità altrui. Le persone tossiche possono approfittarsi della generosità e della disponibilità degli altri. Mancanza di reciprocità. Le persone tossiche non sono disposte o non si sentono in grado di offrire un sostegno reciproco o una gratitudine sincera. Drenaggio energetico. Le persone tossiche possono essere un vero e proprio drenaggio energetico per gli altri. Cerca di capire se con una persona ti diverti o quantomeno condividete sensazioni e situazioni, oppure se ti sta soltanto privando della tua energia, che ti ricordo, è limitata, proprio come il tuo tempo. Devi preservare queste due risorse di cui disponi e non permettere a nessuno di privartene, neanche a coloro che ami e che ti amano. Nel video di oggi abbiamo scoperto come le persone tossiche possono manifestare comportamenti manipolativi, narcististici, mancanza di empatia, cicli di abuso, costante negatività e critiche, nonché un drenaggio energetico e una mancanza di reciprocità. Riconoscere questi modelli di comportamento è fondamentale per proteggere se stessi e promuovere relazioni più sane e positive. Inizia a studiare tutto ciò che è inerente alla tematica della manipolazione e persuasione, in modo tale da poter capire subito se ti trovi in una delle situazioni di cui abbiamo parlato. Se ti trovi in una situazione di abuso o in una relazione tossica, ti incoraggio in primis ad affrontare seguendo le indicazioni di questo video. Nel caso in cui dovessi riscontrare una situazione veramente grave, a cercare aiuto professionale o a contattare le risorse disponibili per garantire la tua sicurezza e il tuo benessere. Ricorda che meriti una vita felice, sana e piena di relazioni positive, per cui non permettere a nessuno, neanche a chi pensi, sia la tua anima gemella. A presto!